La parzelletta di Geppo Due agricoltori della stessa zona crescono insieme e diventano amici ma però dopo qualche anno quando cominciano a diventare adulti si perdono di vista e tutte e due si affermano nel mondo dell'agricoltura diventano proprietari terrieri ettari, ettari hanno dei terreni enormi con coltivazioni ricchissime ma durante una fiera proprio dei bestiame di agricoltura si rincontrano e questi due sono diventati ricchissimi uno più ricco dell'altro, tutti e due insomma quando si incontrano, che bello, baci e abbracci e cominciano a raccontarsi tutte le loro avventure fino a che uno gli fa quell'altro ma te com'hai fatto a fare tutti sti soldi? Pensa, avevo mandarini e aranci e ho fatto i mandaranci ma bravo, incredibile ma te mi sai che c'hai più sordi di me e te com'hai fatto a diventare così ricco? e niente, avevo pompelmi e pini e te dico un successo mondiale